Galimberti non fa come Leoluca Orlando sul decreto sicurezza non disobbedisce, non perché convinto ma perché costretto, non rientrando nel potere di un sindaco, afferma il primo cittadino di Cremona, la sospensione degli obblighi di legge di un provvedimento approvato dal Parlamento. Provedimento che tra l'altro nega la possibilità di concedere la residenza a chi abbia un permesso di soggiorno. Tuttavia Galimberti è convinto che questo decreto produrrà solo più insicurezze e difficoltà per un fenomeno, quello migratorio, che si sarebbe dovuto a suo dire gestire diversamente e congiuntamente. Per questo punta tutto sul tavolo chiesto dall'Anci, l'Associazione dei Comuni, al Ministero per cercare di apportare correttivi e discutere le criticità. Il sindaco di Cremona sostiene inoltre che in città esista un sistema virtuoso fatto di regole di integrazione da portare avanti.